non sono mai venuto su con le macchinine anche perché di neve ne ha fatto poca questa volta siamo venuti su con la macchina di Bruna e cosa trovo una bella nevicata nevicata guardate la come sta venendo comunque è di poco perché sull'albero il calore della pianta riesce a superare la neve e quindi la scioglie la fa sciogliere guardate qua che bellezza di nevicata